. Chiara Biasi incinta di Zaza? Spunto il pancino sospetto Chiara Biasi è incinta di Simone Zaza? La fashion blogger ha un pancino sospetto. . Dopo Chiara Ferragni e Alice Campello anche Chiara Biasi è incinta? È quello che si stanno chiedendo i fan nelle ultime ore, dopo che la fashion blogger ha postato su Instagram uno scatto piuttosto sospetto. . Fasciata in un tubino di maglina nero, la fidanzata di Simone Zaza è apparsa con delle rotondità decisamente nuove. . Chiara infatti è abituato i suoi fan ad un fisico longilineo e asciutto, nasconde forse un dolce segreto? O è semplicemente ingrassata? Difficile dirlo visto che la Biasi è molto attenta alla sua alimentazione. . . . . . . . Zaza e Chiara Biasi, amore a gonfi e vele tra i due. . Un figlio sarebbe il giusto coronamento per la storia d'amore tra Chiara e Zaza. . 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